Giampiero Carosella, vincitore della gara di 9 km alla Corrisernia, che gara è stata? Diciamo che ho mantenuto un ritmo abbastanza alto, ho rischiato però ne è valsa la pena, è andata molto bene, che dire, soddisfatto alla grande. Diciamo che hai percorso a tutta i tre giri, qual è stato il momento più difficile per te? È sempre l'ultimo tratto in salita, è sempre impegnativo, però è andata alla grande. Dando uno sguardo a quella che è stata la tua stagione in generale, come la giudichi? Soddisfattissimo, non può andare meglio. Ecco, sei della società di Sernia, quindi conosci bene il tracciato, conosci bene la Corrisernia. Per questo 2024 cosa ti senti di dire di questa manifestazione? Sì, questa è una manifestazione che ho molto a cuore, sono già tre anni che la faccio questa gara, è sempre un'organizzazione al top, ringrazio la mia squadra, la Freerunner. Grazie a tutti.